Abbiamo pensato di ampliare il nostro frutteto, i bambini di prima e seconda hanno piantato un pesco, un albicocco, un susino e un ciliegio che si sono aggiunti al nostro pero e al nostro melo, quindi il nostro frutteto direi che si è ampliato, è un bel frutteto. Prendo il gas di scarico, cioè la nitrite carbonica e ci mandano l'ossigeno grazie alla fotosintesi quello che vediamo. Albere e alberello, cresci bene e bello, con tanti fiori colorati che in primavera vedrò già sbacciato e nasceranno tanti frutti succosi che per noi bambini saranno appetitosi. Adesso chiediamo alla preside, Vincenzo, di tagliare il nastro e inaugurare il nostro frutteto. Eccoci! Grazie! 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 Grazie!